A proposito di referendum, potete anche pensare di approvare anche voi il referendum sulla giustizia? Il referendum sulla giustizia è un referendum radicale, che passerà perché c'è già 5 regioni, quindi è un grandissimo incentivo e stimolo a fare delle riforme più serie. Ci stiamo ragionando, stiamo discutendo e decideremo se firmarlo, anche poi personalmente non è che c'è un obbligo di partito, il Parlamento fa le leggi, i giudici fanno i processi, ma si smette con le invasioni di campo e penso che se il referendum aiuterà in questo senso allora i referendum saranno utili.